Ben trovati a un nuovo appuntamento previsionale. Un fine settimana nel complesso discreto sulla nostra penisola, guardate un debole anticiclone tra Mediterraneo ed Europa orientale, piovose perturbazioni tenteranno di scalfire l'alta pressione al nord Italia, ma con pochi effetti solamente molte nubi di passaggio per l'appunto basso rischio di fenomeni. Andiamo a vedere però la mappa della nuvolosità ci fa vedere nella giornata di sabato. Nubi via via in aumento su molte delle regioni centro-settentrionali, quindi a Liguria e nord Italia, un po' più compatte sull'arco alpino, ecco qui sarà possibile qualche isolata precipitazione. Andiamo a vedere per l'appunto la mampa in sintesi dell'Italia, ecco qui i regidi piovaschi all'estremo sud sulla parte ionica, buoni invece sulle reminenti zone del centro-sud, ampi spazi di cielo sereno, più numerosità in arrivo al nord Italia, ma con qualche goccia di pioggia solamente sulle alpi settentrionali, temperature da nord a sud comprese tra 20 e 24 gradi. Con questo per il meteo è tutto, maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.